Claudio Marchisio, numero 8, centrocampista. Accetto la sfida. Le cuffie. Con le cuffie una telecronaca. No dai, piemontese no. Non sono buoni. Marchisio, pie al balun. A schiva, a schiva, avanza ancora. Marchisio, la tuca, la tuca. Deceglie, Marchisio. Al confine della rigur. Il tir. Il tir. La buta in 30. Che patela. Marchisio. 1 a 0. Che campione, che gol. E' il cheat ma bui. Beh, basta pareina eh. Molto semplice. Sfido la BBC. Barzagli, Bonucci, Chiellini. Accettate la sfida? Grazie. 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 Grazie.